Terza da San Siro, tre anni non vincitori di 12.000 in carriera, la Pazza SLM, le Proto Sem, l'Ussor Como, l'Encer Va, le Mombas, l'Innoz, Lupita e l'Una Griffi in prima fila. Latin Lover Cup, Linsdani, Latina Pravi in seconda. 15.000 agli ero giocati fino a questo momento, 2.17 la quota di l'Ussor Como, 4.42 Latina Pravi, 5.34 Lupita. Mancano 200 metri abbondanti al punto dello stacco, di Galoppo Lupita che come spesso le succede fa il balletto dietro la macchina, adesso va all'inseguimento, di Galoppo anche la Pazza SLM, si ritrae l'Innoz. Stacco della macchina con le Mombas, velocissimo, non impiega molto a superare l'Ussor Como quando si imbocca la prima curva e così batti strada, mentre è finito squalificato la Pazza SLM. Le Mombas, leader 14, il mini strappo, secondo è l'Ussor Como che sposta al suo esterno per andare a chiedere strada. In terza posizione è ben filtrato Latina Lover Cup, vuol correre davanti le Mombas, l'Ussor Como quindi si adegua in seconda posizione quando finisce la prima curva, il parziale, in un normale 29.9. Le Mombas, l'Ussor Como, Latina Lover Cup, di fuori risale Luna Griff che si trascina a Linsdani. 500 metri di gara, Luna Griff arriva di fianco a Le Mombas, trascinandosi Linsdani, rimasto dentro l'Ussor Como, i 600 in 45.5, 31.5 dall'invocco della curva fino al palo per il passaggio. Si va sulla seconda curva con Le Mombas battistrata, Lussor Como avanti a Latina Lover Cup, di fuori c'è sempre Luna Griff filato da Linsdani. Il secondo parziale in 30.5, un minuto e tre decimi, la metà gara, finisce la seconda curva, si andrà di fronte alle tribune con Le Mombas, è sempre leader Luna Griff, frusta dritta per andare in caccia. Lussor Como in seconda posizione alla corda, non ha ancora fatto nulla fino a questo momento, il chilometro in 1.15.3, 29.8 dal palo sino metà auto opposta, viene via Linsdani che aggira la stanca a Luna Griff, va su Le Mombas. Quando siamo a 4.50 dal palo, Linsdani con un'altra parziale attacca e supera Le Mombas, i 400 in 29.5, 1.29.8 i tre quarti di miglio. Linsdani si allontana dalla compagnia mentre si libera dalla corda Latina Lover Cup che va su Le Mombas che è stanco, è stanco abbastanza anche Lussor Como, si va verso l'ingresso della retta d'arrivo per Linsdani, molto di più per tutti gli altri. Linsdani è isolato in avanti su Latina Lover Cup che finisce bene per il secondo insieme a Latina Prav. Linsdani deve solo far passare i metri perché ha risolto la partita da tempo, viene a vincere nel più facile dei modi in confronto di Latina Lover Cup. Mentre per il terzo è ancora Luna Griff, 29.9, gli ultimi 4, 1.59.8, il tempo totale 1.14.9, la media al chilometro, la vittoria netta nelle dimensioni di Linsdani, Pietro Gubellini, il training di Erie Rantanini, i colori della Varenne, Air Stable, la quota al totalizzatore 6.44. Grazie a tutti.